Benvenuti ad un nuovo appuntamento con AMTG, iniziamo dalla cronaca. Un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di Eroina è stata smantellata dopo un anno di indagini dai carabinieri di Perugia. I dettagli nel servizio. 24 soggetti responsabili di associazione a delinquere per spaccio di stupefacenti, in particolare di Eroina, sono coinvolti nella maxi operazione antidroga dei carabinieri di Perugia, iniziata lo scorso anno e conclusasi alle prime luci di stamattina. Operazione che ha coinvolto non solo la città di Perugia, ma anche Caserta, Latina, Arezzo, Lucca, Pisa e Varese. Dalle indagini, partite con l'arresto di tre nigeriani a Terontola, trovati in possesso di 1,5 kg di Eroina nei primi mesi del 2023, è emerso che gli indagati usavano un linguaggio segreto e caratterizzato da regole ben definite e rigide. Il gruppo aveva una struttura piramidale e usava come base logistica un'abitazione presa in affitto nel centro di Perugia, dove sarebbero stati stoccati e rivenduti in pochi mesi centinaia di chili di droga, smerciati al dettaglio tramite decine di pusher. Un sistema che alimentava lo spaccio non solo dell'Umbria, ma anche della Toscana, delle Marche e addirittura della Campania. Dalle indagini, infatti, è emerso che l'associazione nigeriana era collegata con la mafia campana, in particolare col clan dei Casalesi, il cui capo aveva da poco finito di scontare una pena di 20 anni. I metodi per occultare la droga tra i corrieri erano i più fantasiosi, dai fusti di detersivo alle confezioni di succhi di frutta, dall'interno dei pneumatici alle buste della spesa. Molto in voga tra i corrieri anche l'occultamento all'interno del proprio corpo. Dell'associazione a delinquere faceva parte anche un chimico, con a disposizione un intero laboratorio che doveva vigilare sulla qualità della droga, come il protagonista della nota serie televisiva Breaking Bad. Il principale luogo da cui arrivavano i carichi è in nord Europa. In tutto si tratta di uno smercio di sostanze di 250 chili per un valore di circa 15 milioni di euro. Numerose operazioni dell'arma dei mesi scorsi erano legate alla maxi-operazione. Ora si cercano quattro degli indagati irreperibili sul territorio nazionale con un mandato di arresto internazionale. È stata probabilmente colta da un malore la donna di 76 anni, residente a Narni, che domenica pomeriggio ha perso la vita lungo la Flaminia, viaggiando in direzione Terni. Nell'incidente che non ha coinvolto altre autovetture, la Renault Clio ha finito la corsa contro una centralina della corrente. Per la conducente e dell'utilitaria non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre all'ambulanza, gli operatori della sicurezza e le autorità preposte ai rilievi del caso. La salma della donna è a disposizione della procura. Ennesimo incidente in via Narni avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Il bilancio è di due donne finite in ospedale e tre autovetture coinvolte, ma per fortuna non è successo nulla di grave. Secondo le prime ricostruzioni, un giovane al volante di una Fiat Punto Gialla, proveniente dalla zona di Poscargano, giunto all'altezza dell'incrocio con Via Po, avrebbe avuto un colpo di sonno e ha quindi perso il controllo del veicolo, invadendo così la corsia opposta e scontrandosi prima con una Peugeot 208 condotta da una donna, poi con una seconda auto, una Ford EcoSport, guidata sempre da una donna sul fianco destro. Le due sono state trasportate in ospedale, il giovane invece non ha voluto andare al Santa Maria pur lamentando alcuni dolori. Nessuno dei coinvolti ha risultato positivo ai test eseguiti dalla Polizia di Stato. La compagna di 47 anni ruba generi alimentari a Cospea e viene scoperta. Intervengono i carabinieri e lui, 52 anni, da in escandescenze, minacciandoli con un paio di forbici. Finiscono entrambi i denunciati. Ecco il servizio. Una donna ternana di 47 anni e il suo convivente di 52, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati dai carabinieri di Colle Scipoli per un tentato furto al centro commerciale di Cospea. La donna, spiegano in una nota ai carabinieri, era stata notata dal personale di vigilanza in servizio di antitaccheggio mentre sottraeva prodotti alimentari all'interno del supermercato, immediata la richiesta di intervento di una pattuglia dell'arma. I militari, fermata la donna, hanno rinvenuto nella borsa della 47enne la rifurtiva, poi restituita agli aventi diritto. Tuttavia, durante l'identificazione della donna, il suo convivente ha dato in escandescenze, inveendo nei confronti sia della compagna che dei militari, minacciati ripetutamente nel tentativo di ostacolarne l'intervento. Nella circostanza, l'uomo ha anche danneggiato la maniglia della portiera posteriore dell'auto di servizio e ha impugnato un paio di forbici che aveva con sé, minacciando di compiere un atto autolesionistico, finché non è stato immobilizzato dai militari. Per la donna è scattata la denuncia per furto aggravato, mentre l'uomo è stato a sua volta denunciato per minaccia pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Ha inseguito la sua ex in macchina col nuovo compagno e rovinato l'auto di quest'ultimo con una mazza di legno, arrestato un 36enne italiano. Vediamo il servizio. Ha notato l'ex in macchina con il nuovo compagno e ha deciso di invertire la direzione di marcia per inseguire la coppia nei pressi di Montefranco, fino a costringere i due a fermarsi. A quel punto è sceso dal mezzo brandendo un'asta di legno e ha colpito ripetutamente l'utilitaria del nuovo compagno della sua ex, danneggiandone la carrozzeria e frantumandone i vetri. Il responsabile è un 36enne italiano che da mesi perseguitava la sua ex, una 34enne di origini straniere. Il proprietario dell'auto è riuscito a ripartire di corsa, ma a quel punto il 36enne era di nuovo partito all'inseguimento fino a tamponare la coppia. Allora l'uomo ha iniziato a colpire a pugni i vetri dell'auto che erano sopravvissuti al primo impatto. Non contento, ha spinto la donna a terra che nel frattempo stava cercando di contattare il numero di emergenza col cellulare. Il 36enne, accortosi del tentativo di allarme, le ha strappato di mano il telefono buttandolo a terra. Allora sono intervenuti dei passanti per fermare l'impieto violento dell'uomo, ma si sono allontanati subito. Alla fine la donna si è convinta a sporgere una denuncia, raccontando alle forze dell'ordine le innumerevoli occasioni in cui l'ex compagno l'aveva perseguitata, rendendole la vita impossibile con numerose telefonate e appostamenti sotto casa. La 34enne, temendo per la propria sicurezza, ha avuto la conferma dei suoi timori proprio durante quest'ultimo episodio. Il 36enne è stato arrestato e messo ai domiciliari per atti persecutori, minaccia, violenza privata e danneggiamento. A Foligno la Polfer ha denunciato un ventenne italiano per minaccia pubblico ufficiale a bordo di un treno regionale ai danni di una dipendente di Trenitalia. Il ventenne viaggiava in prima classe, pur essendo in possesso di un biglietto per la seconda e stava dormendo con i piedi appoggiati sul sedile. La capotreno ha richiamato l'attenzione del viaggiatore al rispetto delle norme e per tutta risposta ha ricevuto una reazione scomposta da parte dell'uomo. Dal controllo del biglietto è emersa anche la sua irregolarità, per cui è stato invitato a recarsi in una carrozza di seconda classe. A tale richiesta, l'uomo ha inveito nei suoi confronti tanto da costringere la capotreno ad allontanarsi per salvaguardare la propria incolumità, mentre in suo aiuto sono intervenuti alcuni viaggiatori presenti. L'operatore ha provveduto a inviare sul posto la polfer di Foligno, che ha fatto scendere il viaggiatore dal treno, identificandolo e denunciandolo. E adesso passiamo all'attualità. Successo di pubblico per gli ambulanti di Forte dei Marmi. Il mercato ha fatto il pienone nell'area di Corso del Popolo a Terni. Sole e tanta gente fra gli stand della manifestazione, anche se gli acquisti non sono stati moltissimi. Ecco il servizio. Buon debutto a Terni per la manifestazione fieristica Il Mercato di Qualità più famoso d'Italia, con la presenza degli espositori di Forte dei Marmi nell'area di Corso del Popolo. L'evento, deliberato in giunta a febbraio, è stata una novità assoluta per la città. Non sono mancate le polemiche nel corso delle ultime settimane intorno alla manifestazione. L'evento è proseguito fino al tardo pomeriggio di domenica. Lo stop alle vendite è stato fissato alle 19. Sentiamo come è andata dai ternani che hanno visitato il mercato. Sono stata a Forte dei Marmi e ho comprato una bolsa per mia moglie. Stato a Forte dei Marmi? Certo, eh. Ma un giudizio complessivo? Vi piace? Vi piace questo mercatino? Si può rifare? Sì, mi piace. È novità, ci voleva. Diciamo che sì, è carino, però secondo me queste bancarelle ce ne sono tre o quattro considerevoli. E alle altre, diciamo così, credevo di trovare meglio, specialmente le scarpe, no? Vi piace la merce esposta in meglio del mercatino del mercoledì? Beh, vedo un po' la merce è ancora un po' più griffata, dunque. Quindi si può rifare? Sì, assolutamente. Come va questo mercatino? Mi piace? Sì, sì. Da rifare, un'esperienza da rifare? Un'esperienza che si può rifare? Eh sì. Perché no, certo. Sì, sì, sì. Avete trovato qualcosa? Abbiamo trovato qualcosa. Ci trova sempre qualcosa. E quindi da ripetere e da rifare. Secondo me è bello, nel senso che c'è molto movimento, ci sono belle cose. E direi che io che frequento quello di Forte dei Marmi, è una bella cosa che a Terni sia venuto anche qua. È simile a quello di Forte dei Marmi? Sì, 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 sì. Molto simile. Certo, non è uguale, però è simile. Quindi è un'esperienza da rifare, secondo me? Sì, assolutamente sì. Mi sembra una bella cosa per Terni. Come vi sembra? Allora, io non conosco quello originale del Forte dei Marmi, è diciamo buono. Però non è uguale. Non è uguale perché lassù è diverso. Però è ottimo, soprattutto questa parte. Quindi è un'esperienza comunque da ripetere per Terni, secondo me? Come no, sicuramente, perché attrae anche le persone da fuori Terni, penso, no? L'è piaciuto? Sempre. Grazie. Venite una volta al mese, minimo. È contenta? È perfetto. Si introduce nello spogliatoio riservato al personale infermieristico al secondo piano dell'ospedale di Terni. L'episodio è accaduto nella prima serata di domenica. Un soggetto vestito con una felpa gialla, straniero, è stato notato dal personale ospedaliero negli spazi interdetti e subito è scattata la segnalazione alla polizia di Stato. Sul posto, una pattuglia della volante e la guardia giurata. Una volta scoperto, l'uomo è scappato, salvo poi riapparire nei pressi della portineria. Ed è lì che l'appuntato Fabio Carissimi della Vigilanza lo ha fermato, consegnandolo al personale della polizia per l'identificazione. L'uomo avrebbe dei precedenti, ignote le ragioni dell'azione messa in atto, ma si indaga sotto questo profilo. Le buche sono ormai un problema acclarato della viabilità cittadina, ma gli incidenti arrivano anche dall'alto. Numerosi, infatti, risarcimento del comune a chi ha subito danni dai rami degli alberi. Ecco il servizio. La viabilità a Terni è un problema e non solo per le buche. Anche i danni causati dai rami sono da record. Stavolta però parliamo del 2022, anno durante il quale le denunce per i sinistri causati dalle alberatore sono raddoppiate, passando dal 6,86% al 12,86%. La discussione che ne è seguita riguarda quindi non più soltanto le potature, ma soprattutto un modo per limitare i risarcimento ed evitare di finire in tribunale, dal momento che la parte della ragione è quasi sempre quella del cittadino che ha subito il danno. Parliamo di 70 denunce solo nel 2022, di cui 51, riguardanti lesioni e danni materiali per dissesto stradale, ovvero buche e tombini, mentre gli incidenti causati dalle alberature sono stati 9, anche se l'anno dei record è stato il 2020, nonostante la pandemia, con ben 19 incidenti del genere. Invariato inaspettatamente il dato che riguarda i danni dai cinghiali, anche se la presenza degli ungulati tra le vie cittadine è sempre più frequente. Certo è che l'attuale amministrazione deve fare molta attenzione, viste le numerose buche in città, a non ripetere gli errori della vecchia giunta. Fabio Di Gioia, attuale sindaco di Arrone, si ricandiderà alle prossime elezioni amministrative. L'annuncio con un post sui social. Nel servizio, i particolari sulle candidature arronesi. Abbiamo tracciato un percorso, ma c'è ancora molto lavoro da fare, molti cantieri da chiudere e altri da avviare. Per questo motivo ho deciso di proseguire questo viaggio. Con queste parole scritte in un post sulla sua pagina Facebook, il sindaco uscente di Arrone, Fabio Di Gioia, anticipa la sua intenzione di ricandidarsi alla carica di primo cittadino del comune della Valnerina. I prossimi 8 e 9 giugno, infatti, ad Arrone, come in altri 21 comuni del Ternano e 39 del Perugino, si terranno le elezioni per rinnovare l'amministrazione comunale. 60 comuni sui 92 totali della regione vedranno quindi rinnovate le loro giunte. Tra loro anche il capoluogo di regione e comuni molto popolosi come Foligno, Orvieto e Gubbio. Ad Arrone permane ancora qualche margine di incertezza sul numero di candidature. Certa è l'intenzione di Thomas Nardini, di Alternativa per Arrone, di partecipare alla competizione elettorale manifestata anche tramite un video di autocandidatura postato sui social. Lo sfidante è da tempo attivo all'interno di Alternativa Popolare, tuttavia ha scelto di candidarsi con una sigla e un logo che richiamano quelli di AP, ma fanno comunque riferimento a una lista civica diversa. Un terzo sfidante potrebbe aggiungersi alla partita, ma al momento non si hanno conferme al riguardo. Al prossimo episodio